Al Braglia, al cospetto della Capulista, prima partita da grande squadra. Almeno per un'ora il miglior Pescara della stagione. Corto, compatto, aggressivo, dominante nel gioco, impeccabile nelle transizioni, cattivo dal punto di vista difensivo, con un impeto mai visto anche nei momenti di difficoltà. Spezia nel primo tempo superiore in tutto, quella vista modere. Insomma è stata la squadra che i tifosi hanno aspettato per tutto l'anno, capace di giocare con intensità e proprietà di palleggio. Fortemente limitato Gerli, che all'andata aveva spadroneggiato, contenuto Azzi, annullato Trebolada, ovvero gli elementi cardine dell'undici di Tesser. C'è naturalmente da migliorare degli ultimi 20 metri, come? Attaccando con più determinazione la porta avversaria. Ma il Modena si è confermato estremamente solido. Ha incassato solo 17 reti. Il portiere Gagno, prima di subire gol da Arrigoni a Teramo, mercoledì scorso sul calcio di rigore, era rimasto imbattuto per ben sei partite. Due gli episodi chiave. Il penalty solare negato a Cernigoi in avvio di gara. E il primo giallo cominato a Drudi, poi espulso al 77esimo. Seconda sanzione ineccepibile. Sotto il profilo arbitrale al Braglia di Modena, lo dice la storia, mai gare normali. Ha fatto discutere il mancato ingresso di Ferrari. Ad un certo punto del match non c'era più energia per il fraseggio. L'attaccante italo-argentino sarebbe stato molto utile per tenere palla e far salire la squadra. Pur vero però che il gol è stato subito in inferiorità numerica, soprattutto allo scadere del recupero. Di fatto Sorrentino inoperoso, puntuale, in un paio di uscite, ma mai seriamente impegnato. In sintesi, una beffa troce, ma da questa gara il Pescara esce più forte. I bencazzurri hanno dimostrato di poter giocare partite così contro squadre di alto livello. L'obiettivo, se si vuole arrivare ai play-off con qualche ambizione, è cercare di farle diventare non una eccezione, ma quasi la normalità.